buongiorno a tutte e tutti e bentornati in questa nuova puntata di io non mi rassegno la rassegna stampa quotidiana commentata d'italia che cambia che tutti i giorni da lunedì al venerdì vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo oggi 8 gennaio continuiamo a parlare della situazione tesa fra iran e stati uniti parliamo anche della situazione in libia degli incendi in australia e delle guerre per l'acqua mi rendo conto che non sarà la puntata più sprizzante allegria della nostra rassegna però questo succede nel mondo vi ricordo anche se avete suggerimenti domande notizie che volete segnalarmi potete farlo nei commenti di questo video e che trovate sulla pagina rassegna stampa di italia che cambia che vi lascio in descrizione tutti i riferimenti agli articoli che cito e trovate anche questo format in versione podcast se volete ascoltarlo va bene ieri accennavamo alle minacce di rappresaglie da parte dell'iran in seguito alla all'operazione che ha ucciso il generale sulle mani e puntualmente questa notte c'è stato un attacco missilistico iraniano a due basi militari irachene che ospitano militari americani una di queste basi tra l'altro è sembra essere proprio la base da cui è partito è partita l'operazione degli stati uniti che ha ucciso con un drone il proprio il generale sulle mani lo scorso venerdì questa operazione viene definita dall'iran operazione sulle mani martire e ha causato pare circa un'ottantina di vittime nessuna delle quali però statunitense cioè pare che siano tutte irachene trump si è affrettato a twittare nella notte che va tutto bene aggiungendo che avrebbe parlato in conferenza stampa questa mattina cosa che nel momento in cui registro questo video non ho ancora fatto nel frattempo ha lanciato però un po di messaggi contraddittori che hanno mandato in confusione anche i generali statunitensi e gli alleati della nato stessa perché dapprima ha evocato lo scenario di un ritiro di tutte le truppe americane dall'iraq e ha parlato di bombardare i siti culturali iraniani poi ha fatto retromarcia dicendo che gli stati uniti non se ne andranno dall'iraq almeno finché non avranno recuperato i costi di tutta la missione a cui lui era contrario fin dal principio e quindi generando un po di scompiglio di confusione anche fra i suoi intanto a bagdad però ci sono manifestazioni contro l'esercito americano e il parlamento iracheno ha approvato una risoluzione per chiedere al primo ministro di cacciare i soldati americani dall'iraq dal canto suo invece il ministro degli esteri iraniano ha spiegato l'operazione missilistica di questa notte come la vendetta per l'uccisione di soleimani facendo intendere che da un certo punto di vista per adesso va bene così all'iran questo almeno a parole l'iran ha detto ha intrapreso e concluso proporzionate misure di autodifesa prendendo di mira la base dalla quale è stato lanciato un attacco codardo e contro i nostri cittadini e funzionare di livello questa è stata la dichiarazione di Yavad Zarif che è appunto il ministro degli esteri iraniano insomma c'è un bel po di confusione al netto di tutto ciò la situazione resta abbastanza per non dire molto complicata e in tutto questo caos fra l'altro spiega il post che è possibile ma forse anche probabile che ad approfittarsene sia proprio l'isis che fino ad ora era stato respinto la sua avanzata diciamo l'avanzata delle milizie dell'isis era stata respinta e ostacolata con successo proprio da un fronte una coalizione che vedeva impegnati sia gli stati uniti da una parte ma anche l'iran dall'altra grazie proprio a Soleimani e questa coalizione internazionale anti-isis in Iraq è stata bloccata dagli Stati Uniti proprio domenica scorsa che ha annunciato la sospensione di queste operazioni militari e ha anche annunciato la sospensione dell'addestramento dei militari iracheni in corso da diversi anni che venivano addestrati proprio per fronteggiare le milizie islamiche dello Stato Islamico quindi la situazione è abbastanza caotica e ovviamente restiamo aggiornati nei prossimi giorni su quello che succede c'è stato però un ulteriore fatto abbastanza strano che è accaduto questa notte proprio in Iran ovvero che è precipitato al decollo un aereo di linea ucraino causando la morte di tutti e 173 i passeggeri è successo a Teheran l'aereo stava decollando in realtà pare che sia stato un guasto tecnico e fino a prova contraria probabilmente proprio questo è il problema che c'è stato e che quindi il fatto sia completamente slegato da tutti gli altri avvenimenti però lo so la coincidenza è perlomeno suggestiva comunque ci aggiorniamo su questo sulla situazione in Iran ma restiamo per adesso in Medio Oriente perché c'è un'altra situazione da tenere sotto occhio ed è quella in Libia ne abbiamo già parlato qualche giorno fa Erdogan ha iniziato aveva annunciato l'invio delle truppe in Libia per contrastare l'avanzata del generale Haftar e adesso ha effettivamente inviato le truppe turche che sono iniziate a sbarcare a Tripoli. Putin appoggia l'operazione di Erdogan anche se in maniera un po' più esterna e sia Putin che Erdogan temono che un ribaltamento del potere in Libia come quello che sta cercando di attuare il generale Haftar potrebbe cambiare sia gli accordi commerciali che i loro paesi hanno con la Libia sia gli equilibri geopolitici della zona. L'Unione Europea ha provato a intervenire un po' senza troppa convinzione diciamo invitando i paesi esterni a non intervenire nelle faccende interne della Libia ma non ha assortito questo grande effetto. L'invito è stato ad aspettare perlomeno l'incontro di Berlino che è già stato programmato in cui tutti i paesi esterni che hanno interessi in Libia dovrebbero mettersi a sedersi a un tavolo e comunque definire con più chiarezza la situazione e le future azioni in maniera concordata. Quando parliamo di interessi in Libia uno potrebbe chiedersi quali interessi hanno i paesi esteri nel controllare la Libia? La risposta in realtà è abbastanza scontata ed è esattamente come le state pensando perché la Libia è il nono paese al mondo per riserve di petrolio e anche un sacco di riserve di gas quindi siamo sempre lì. Poi continuiamo a domandarci come mai falliscono i negoziati per il clima. Evidentemente ci sono interessi che vanno oltre i cambiamenti climatici. Va bene torniamo a parlare anzi restiamo in questo caso a parlare di clima e perché parliamo degli incendi in Australia. Continuano ad arrivare notizie non molto confortanti anzi decisamente drammatiche. Un ultimo report del WWF pubblicato oggi raddoppia persino le precedenti stime riguardanti gli animali morti direttamente o indirettamente a causa degli incendi in Australia e parla di un miliardo. Fino a qualche giorno fa si parlava di circa mezzo miliardo. Ovviamente è una stima, non sono nessuno li ha contati, però è una stima che fa venentere a brividire. Come se non bastasse sempre questa mattina arriva la notizia riportata da vari quotidiani anche nostrani che nei prossimi giorni verranno abbattuti 10.000 cammelli da dei cecchini, cammelli rei di consumare troppa acqua potabile in zone colpite dalla siccità in cui l'acqua effettivamente non basta per gli esseri umani e per i cammelli. Quindi una sorta di guerra fra specie per assicurarsi una risorsa che non è più abbondante. Il problema dell'acqua fra l'altro scatena anche sempre più guerre fra esseri umani nel mondo, visto che l'acqua in molte zone inizia a scarseggiare, a essere un bene sempre più prezioso e questa cosa ha spinto alcuni ricercatori provenienti da sei diverse organizzazioni a sviluppare uno strumento in grado di prevedere l'insorgere delle cosiddette guerre per l'acqua. Questo strumento, spiegano i ricercatori, ha un'accuratezza dell'86%, quindi molto alta detta loro e tiene conto di molti fattori sia ambientali tipo periodi di siccità, incidenza delle precipitazioni e sia anche fattori sociali tipo la distribuzione della ricchezza, le sacche di povertà e così via. Ovviamente si tratta di un'azione che va a intervenire sul sintomo, quindi la guerra, quindi cerca di prevedere e poi agire di conseguenza per evitare focolai di guerra e che può essere utile appunto per intervenire nelle situazioni più critiche prima che degenerino, però a patto che nel frattempo ci preoccupiamo di risolvere le vere cause e le vere cause sono il fatto che l'acqua scarseggi, la siccità aumenti a causa sia dei cambiamenti climatici sia dell'alterazione degli ecosistemi per opera proprio dell'essere umano. Va bene, credo, siamo a nove minuti e mezzo, credo per oggi fra l'altro di avervi depresso abbastanza, perciò se avete bisogno di una boccata di ossigeno vi consiglio di andarvi a fare un giro su Italia che cambia perché trovate un sacco di esperienze bellissime che stanno, che sono in corso nel nostro paese, esperienze di cambiamento legate al sostenibilità ambientale, legate al cambiamento sociale, culturale, economico, fateci un giro e vedete come effettivamente si possono anche risolvere questi problemi. Piccolo consiglio personale, non fatelo come un'evasione, cioè fatelo come vi pare, però vi consiglio di non farlo come un'evasione, nel senso che Italia che cambia non serve a convincerci che va tutto bene, ma piuttosto è importante conoscere le cose che non vanno bene, conoscere i problemi e esserne consapevoli e se lo si fa con questa consapevolezza serve a trovare degli spunti e un'ispirazione per cambiare veramente le cose, questo è il senso che vogliamo dare al nostro lavoro e questo è l'invito che vi faccio quando andate a vedere il nostro sito di Italia che cambia, non un'evasione ma veramente un database di tantissimi spunti per cambiare la propria vita, la propria comunità e chissà, magari anche il mondo domani. Va bene, per oggi è tutto, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con il nome d'assegno sempre alle 10, sempre per 10 minuti e vi ricordo anche oggi che chi si rassegna è perduto. Ciao!